Si è arrivata l'altra sera questa certificazione dal Movimento Nazionale, come ho detto già pur ieri sono orgoglioso e onorato di rappresentarla. Si parte con la campagna elettorale. Noi abbiamo fatto una lista piena di giovani vallesi, tutti con belli obiettivi che vogliono dare il proprio contributo all'amministratore di questa città. Cosa si aspetta da questa esperienza, da questa sfida elettorale? Io come ho scritto ieri per noi è già una cosa straordinaria presentarla, credo che anche a Salerno e Cimprovincia forse saremo gli unici a presentare una lista con il simbolo del Movimento 5 Stelle. Per noi è una bellissima esperienza e se andrà bene certamente ci daremo il nostro contributo per amministrare bene Vallo. Pronti a lavorare per la città di Vallo? Pronti a lavorare perché quello che è importante è oltre le competenze anche l'impegno. Io credo che uno quando dà il proprio contributo deve darlo proprio perché tiene a stare a Vallo, ad abitare a Vallo, ad vivere a Vallo e che i propri figli restano a Vallo. 5 anni fa per lei era la prima esperienza, fu uno dei consiglieri più votati, poi sappiamo le cose come sono andate, ha deciso di ripresentarsi in prima persona, di metterci la faccia nel vero senso della parola, di sfidare anche l'amministrazione. Certamente, 5 anni fa è stata la prima esperienza e penso che ho fatto una buona esperienza, magari in un primo momento con l'attuale maggioranza e poi magari indipendente, è stata un'esperienza che comunque ci mi ha dato tanto e spero che questo qua serve proprio per continuare a dare un contributo a Vallo che amo. Gli ultimi 5 anni sono cambiate tante cose, è cambiato anche lo scenario politico di Vallo e devo dire che in questo rinnovamento, in questa fase di rivoluzione trova benissimo spazio il Movimento 5 Stelle. Secondo me si trova spazio il Movimento 5 Stelle perché siamo in una fase politica ma in tutta Italia che il cittadino è un po' scontento, c'è di tutto, forse c'è della vecchia politica, della poca trasparenza e della non attività del cittadino. Il Movimento 5 Stelle è proprio quello, non è un partito politico ma sono cittadini che si impegnano per il bene quotidiano. Allora, iniziamo la campagna elettorale. Insomma, qual è il suo primissimo messaggio agli elettori di Vallo della Lucaria? Vabbè, gli elettori di Cia di Vallo penso che tutti quanti mi conoscono, io ho messo già la mia faccia 5 anni fa, voglio farlo ancora oggi e ci invito tutti quanti a votare me e il Movimento 5 Stelle che certamente ci darà un ottimo contributo valido alla città di Vallo. Papà che cosa ha detto? Papà è contento, orgoglioso e emozionato pure.